io sono gasato e felice di com'è andata la serata ringrazio bergamo scienze per l'invito ma soprattutto l'università degli studi di bergamo perché ha creduto in un progetto unico cioè di invitare te da formare dei professori secondo me la serata è andata davvero bene io sono contento e spero anche il pubblico che ci ha ascoltato